Eclettici, innovativi, originali, signori e signori per voi direttamente da Napoli con de Maesca, Dinamic Art! Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, ma dategli una maschera e vi dirà la verità. Le maschere hanno da sempre permesso ciò che ai volti è proibito. Dienici si sente protetti e se ne porta al giorno una diversa, in base all'occasione, ma basterà per interpretare la realtà. Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, e un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona, un uomo non è del tutto se stesso quando Allora, 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 allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.